buongiorno siamo qui con massimo nalli direttore generale settore auto di suzuki italia nella presentazione della nuova suzuki baleno massimo illustri questo nuovo prodotto per i nostri lettori baleno viene presentata oggi nella versione top di gamma che ha preso la denominazione di baleno s perché il top di gamma corrisponde anche al top della potenza della motorizzazione parliamo di un moderno turbo contenuto nella cilindrata 998 cm cubici ma ben 112 cavalli e 170 newton metri di coppia in pratica risponde molto bene ai comandi dell'acceleratore ok e questo qua è un ottimo prodotto avete appena presentato anche vitara quindi tutti questi nuovi mezzi di casa suzuki come sta andando il mercato il mercato complessivo dell'automobile e il mercato di suzuki stanno entrambi veleggiando col vento in poppa il mercato italiano nei primi quattro mesi del 2016 è cresciuto di qualcosa meno del 19 per cento dove suzuki è invece superiore al 33 per cento nella crescita quindi una performance in questo 2016 particolarmente positiva come hai detto grazie al prodotto certamente la gamma baleno che oltre al mille turbo presenta anche un mille due aspirato con o senza opzione ibrida il lancio di vitara di circa un anno fa che ha visto il mercato italiano essere leader in europa per vendite di vitara quindi grazie ai clienti italiani e ancora il resto della gamma l'intramontabile gimni per esempio ancora la nostra best seller per molti anni swift che continua ad attrarre con il suo stile unico e poi s cross il nostro crossover che dal 2013 ci sta dando grosse soddisfazioni per i anni so